Mossano, incendio in un appartamento divampato in tarda mattinata. Sono state tre squadre dei vigili del fuoco dell'Unico a Vicenza ad intervenire simultaneamente e impedire che le fiamme si potessero estendere e distruggere l'edificio. È accaduto verso le 11.30, non ci sono stati feriti, molti i danni nelle stanze e sui soffitti impregnati dal fumo. L'intervento durato tre ore ha permesso anche di salvaguardare un capannone a tiguo.